mondo 4 mondo 4 ancora cos'è? ah ti seguono quando hai la chiave davvero? si tipo un super mario bros 2 le maschere ti ricordi? non ho mai giocato ok chi hai? vengono sempre una principesa dal cacchio ecco io sono la principessa tu giù la eh orrendo spin wow vai l'indietro eh? ah si wow posso fare bowling con le bombe io penso no no oh ahia combo hai visto? occhio wow che faccino ho fatto che il gatto con gli stivali lo voglio kill no scherzo inferno è mio non sei cattivo non sparare ok lasciamo il c4 oh come? tu vai giù che l'ho premuto su vai premilo wow non è una principesa no cosa no? no 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 fuu ok du 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 pandaru pandaru cos'è il panda kangaroo fuuuck sto guardando te invece di ah jesus chi era dei platform eh? ma nessuno sono new perchè ho perso la vita giù il lumino io guarda 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 si ma vai usiamo la candela non 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 si potrebbe dire quel eh? ti dava qualcosa? eh la frusta ma no wow bitch please brucia nel sonno ah ma cosa serve dormire? niente niente non ti dà vita perchè l'hanno messa? per disturbare? per sim per disturbare vai sopra dovrò venirci ah muro 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 ah e tu la candela è una bombona ahah ehhh in bombe non fanno.. ah si con desplo dark non sono sicuro se... Non sono sicuro se questo non è Non dirlo sono da poco giocate a fine No, infatti in realtà mi sono ormaiato Yes! E posso come una morda Guarda, guarda, guarda! Che stai facendo lui? Guarda, guarda! Guarda, guarda! Aspetta, aspetta! Non sconfiggerlo Voglio riprovare, guarda Guarda, guarda, guarda Che imbroglio! Come fai? Solo B, salti B No vabbè non è invincibile Vieni qua che spengo i blocchi magari Cosa c'è stato? Eh, magari c'è sotto qua un granale o un po' Beh, ci sono le costelle Oppure una mano assuola Tanto è passioso Sì? Sì? Guarda, sì Guarda, ci dà Guarda, ci dà No, non c'è Basta Bene Come fai far lungo? Eh? Sì? Sono un pro Aspetta Nooo Voleci bene Sei nell'acqua sulla mia testa Sembra anche un po' panto Qualcosa umana Eh? Nooo Mami Mami Sono il boss del quattro Mami Oh 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 Non ridono tipo così i bambini Non ridono tipo così i bambini Non ridono tipo così i bambini Eh, ti succhiava il sangue Ma chi è il piaccia? Succo di arancia Badaboom Badaboom Sssssssss Succo D'arancia Succo di arancia D'arancia Ssssssss ti esplodete buon lavoro ma adesso non sai neanche cosa perchè l'ho detto due minuti fa prendila la gemma dell'invisibilità bitch please Harry Potter vai corri 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 devi passare attraverso il muro vai corri avanti vai vai Nick non va qua salta su 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 corri corri perché dopo un po' finisce l'effetto passa attraverso il muro passa di qua passa di qua di qua Nick vai corri e intrappolo suck my dick Harry Potter vai 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 attraverso perfect suck my dick suck my Dumbledore Harry Potter ci sei attacco da ansia allora spada o o spada o 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 ti fa male andare su quel sito come si chiama si o 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